Oggi c'è stato un intervento particolarmente significativo, tra i tanti naturalmente, che abbiamo ascoltato, rispetto al modo con il quale si scrivono le leggi. Molteni ha detto delle cose da questo punto di vista molto interessanti. Molteni mi ha proposto, dice leggiti prima i decreti e poi fai passare soltanto quelli che capisci. Credo che se noi non riusciamo a essere semplici nei confronti dei cittadini, perdiamo la strada per tornare a casa. Permettetemi di dire che non è soltanto un tema di semplificazione e di capacità di comprensione, è un tema più grande, più serio. Il tema della semplificazione porta ciascuno di noi a dire come è possibile che dopo un terribile episodio come quello di Fukushima in Giappone in sette giorni si rifà un'autostrada, è da noi per riuscire ad avere l'autorizzazione contro le conferenze dei servizi, contro le sovrintendenze, contro i vari organismi di autorità d'ambito che noi abbiamo creato in questi anni. Abbiamo bisogno di aspettare mesi ed anni e non pensate di considerare che questa sia una responsabilità del Governo che ci precede.